era difficilissimo stasera giocare qui soprattutto fuori casa e anche l'ultima di campionato quindi sia noi che loro dovevamo finire bene l'anno è andata meglio a noi e anche loro comunque stasera avevano questa pressione di vincere per forza perché dovevano entrare in Coppa Italia invece noi volevamo un po' salire su di classifica quindi questi tre punti sono stati importantissimi. Sì è importante come dicevo anche prima perché queste secondo me sono le partite più difficili e noi siamo state bravissime a rimanere sempre concentrate e aggressive fin dall'inizio. Il Club Italia è una squadra giovanile quindi ci si può aspettare di tutto noi l'importante che facciamo sempre il nostro gioco e che facciamo bene noi poi per il resto si vedrà.